La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento mattutino con la rassegna stampa di Uno News. Andiamo a vedere i principali argomenti trattati dai quotidiani in edicola questa mattina. Partiamo dalla prima pagina del mattino nazionale che si occupa della riforma sul lavoro. Vediamo le nuove regole per i licenziamenti, infatti il titolo della prima pagina del mattino nazionale è proprio questo, licenziamenti, le nuove regole. Arriva l'accordo tra governo e minoranza del PD, previsto il reintegro anche per motivi disciplinari. Nel Job Act Renzi partita chiusa, no di nuovo centrodestra, serve una verifica, local tax e canonerai in bolletta, ecco cosa cambia. Andiamo avanti con gli articoli correlati sempre a centro pagina, la storia all'articolo 18 del Fantino. Mentre per le interviste parliamo delle prossime elezioni regionali in Campania, Alleanza, Parla Schifani, in Campania siamo con Caldoro. Per la legge elettorale lo sbarramento al 3% e la giusta mediazione per rappresentare tutti. Altra notizia particolarmente importante riportata sulle prime pagine del mattino nazionale, parliamo dell'inchiesta sulla sanità in Campania. Vediamo Campania, gli appalti truccati della sanità. Agli arresti l'imprenditore Massimo Petrone, altri manager ospedalieri ed ex vertici della società regionale Soresa. Farmaci per decine di milioni nel mirino, le gare di appalti degli ultimi due anni dell'era Bassolino. Vediamo le accuse, il GIP, creme e viaggi gratis per vincere la concorrenza. Questo articolo lo troveremo anche nelle pagine di primo piano, quindi nelle pagine successive. Ora cambiamo argomento, ci spostiamo di taglio basso. Vitalizzi la rivolta della casta contro i tagli, la diffida degli ex consiglieri regionali, una malvagità a toccare gli assegni. Per lo sport invece Benitez chiede tre rinforzi per rimontare a gennaio e Nesti in tutti i ruoli. Persic, Suarez e Arbeloa per i nomi caldi, per gli acquisti di gennaio. Stiamo parlando naturalmente del Napoli. Lasciamo questa prima pagina, andiamo nelle pagine di primo piano. Come annunciato si parla dell'inchiesta in Campania contro la sanità. Campania, gli arresti per gli appalti truccati, vediamo il titolo, l'inchiesta. Campania, appalti truccati per la fornitura dei farmaci, holding sanità, sette gli arresti nel Milino Petrone, re del settore. Le indagini, secondo la procura, società separate hanno fatto per anni cartello. E ancora la storia, si ha coinvolto i due ex esponenti, la società travolta da un altro scandalo. Lo vediamo in alto, la svolta di sposti dal GP domiciliari per imprenditori privati, esponenti della sanità e manager come corcione della San. Al setaccio, le gare tra il 2009 e il 2010 bandite nell'ultima fase dell'amministrazione Bassolino. Di taglio basso, quel grande giro di affari che vale 140 milioni al mese. Da gennaio scorso ad agosto la spesa sostenuta per i farmaci salita a 1 miliardo e 178 milioni. Per la distribuzione negli ospedali non ha nulla a che vedere con le farmacie. Il dato costo medicina è per un importo pari al 10% della spesa nazionale. Questa è la pagina di primo piano. Ci spostiamo ora sulle pagine del mattino di Salerno. In apertura si parla del prossimo weekend con luci d'artista a Salerno. Vediamo il piano traffico per evitare gli ingorghi. Vediamo il titolo, assalto gran turismo, luci blindate, via il piano antitraffico, corsie preferenziali per le navette e tornano gli autovelox mobili. Weekend con 40 pullman in campo, la task force per la sicurezza con polizia, carabinieri, finanza e corpo forestale. Andiamo di taglio alto. La notizia in primo piano. Ieri i funerali del già presidente della Salernitana Don Peppino Soglia. Vediamo il titolo, cori e fumogeni, addio presidente. Lacrime a Castel San Giorgio per l'ultimo saluto a Soglia. La Salernitana va in Calabria a caccia di una vittoria da dedicare a Don Peppino. Anche questa notizia la troveremo nelle pagine successive. Vediamo l'articolo correlato. Il ricordo, l'uomo del fare che sognava Granata. Di spalla le interviste del mattino, io inseguito dalla giustizia, controlli tutte le notti. Vediamo l'intervista realizzata a Monsignor Nunzio Scarano, che è lapidario sui 2 milioni di euro trovati nei suoi conti correnti. A centro pagina l'ambiente, il tarlazio chiude, macchia soprana, mentre di fondo l'economia caos ance, i dubbi del garante. Di taglio basso nella rubrica le riflessioni, il dialogo con la cometa nel viaggio di Ulisse. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo nelle pagine successive. E vediamo proprio la pagina dedicata ai funerali di Don Peppino Soglia. Vediamo nell'articolo del collega Marcello Festa. Il lutto corri da stadio e fumogeni, lode a te Don Peppino, folle e commozione ai funerali di Soglia. Il presidente del ritorno in B. Vediamo nella sua Castel San Giorgio l'ultimo saluto all'imprenditore in chiesa, la vecchia Curva Sud. E ancora i nomi politici e calciatori in platea, commosso anche l'ex patron Aliberti. Di spalle ricordo Amarcord Zennaro che entusiasmo ago il suo pupillo. E lasciamo anche questa pagina in ricordo della Salernitana e di Don Peppino Soglia. Andiamo avanti ora sulle pagine dedicate alle notizie del territorio della parte sud della provincia di Salerno. Parliamo di Battipaglia e Cilento. Vediamo il titolo, si apre con una notizia di Battipaglia, trovato un residuo bellico nei giorni scorsi. Vediamo bomba, 1500 persone da evacuare nella giornata, summit in prefettura. Si studia come rimuovere l'ordigno dal cantiere. Il disinnesco potrebbe slittare a domenica 30. Va prima costruito il muro. E andiamo avanti il piano accoglienza al Ferrari, assistenza medica garantita per chi non è autosufficiente. Lasciamo questo argomento. Andiamo al centro pagina. Laureana Cilento compra l'olio al market e lo rivende come DOPEX. Travergine Tarruccato, la frode di un commerciante di prodotti agricoli, studiava tutte le offerte. Poi raggirava i clienti, denunciato dal NAS. Nel blitz, sequestrati 1600 litri messi in commercio a prezzi quadruplicati. E andiamo a sala Consilina. A Vallo della Lucania, travolse il vigile urbano, convalidato l'arresto. Mentre ad Atena Lucana, testa da riete al bar, razzia in 8 minuti. Nel locale del distributore portano via 10.000 euro e il liquore per brindare. Infine, a Capaccio, l'assessore di Entra a Casa, i ladri fuggono col bottino. Queste le pagine del quotidiano il mattino. Andiamo ora invece a sfogliare il quotidiano La Città, che apre con luci d'artista. Quindi il piano antitraffico previsto per il fine settimana. Vediamo luci, scattano i divieti a Salerno. Così titola in apertura la città. Da domani il dispositivo anti-ingorgo. Niente bus turistici in centro. Sosta alla Rechi e in via Ligea. Navette dallo stadio, fermate anche nella zona orientale. Controlli ai venditori abusivi. Nella fotonotizia, anche la città dedica il suo omaggio a Don Peppino Soglia, ex presidente della Salernitana. Lacrime e cori da stadio e mille per l'ultimo saluto a Don Peppino. Più di mille persone hanno dato l'addio a Giuseppe Soglia. Ai funerali dell'ex presidente della Salernitana, svoltasi a Castel San Giorgio. A centro pagina regionali, ecco Quagliariello, l'ex ministro punto d'incontro tra Partito Democratico e Nuovo Centrodestra. Ma la situazione è fluida. Per la scuola, edilizia scolastica, Salerno al cinquantesimo posto. E per il Ruggi, invece, quindi Sanità, 400 ricoveri al giorno nel pronto soccorso. Continuiamo su questa prima pagina. La cronaca di spalla, battipaglia, ordigno bellico da evacuare 2.000 persone. A Bracigliano, auto in fiamme, attentato all'assessore. Mentre a Cava dei Tireni, schianto in A3, c'è l'autopsia sul camionista. Di taglio basso lo sport. Salernitana, esame da primato. Menichini, stasera con la regina, sarà una battaglia. Per il Napoli, congelato a Eweil, si tratta Giaccherini. Questo il titolo, si parla del calciomercato. E per la Cavese, trasferta di domenica, no ai tifosi bianco-blu. Andiamo nelle pagine successive del quotidiano La Città. Andiamo sulla pagina dedicata alle notizie di Salerno, che apre occupandosi del piano traffico previsto per il fine settimana a Salerno, in occasione della Kermess Lucida Artista. Dispositivo anti-ingorgo. Domani scattano i divieti. I bus turistici non potranno attraversare il centro. Sosta alla Rechia, in via Ligea, prevista una navetta che dallo stadio raggiungerà la zona orientale su richiesta. E poi vediamo nell'immagine una parte del piano con le strade interdette segnalate dai divieti d'accesso. Andiamo avanti. Il post di De Luca su Facebook a Salerno, un fatturato da 20 milioni. Vediamo come chiude questa pagina del quotidiano La Città. ha disposti controlli a tappeto in arrivo a 30 vigili stagionali. E sulle notizie di Salerno e di Lucida Artista ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Riprenderemo tra pochissimo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Dopo questa breve pausa pubblicitaria andiamo avanti. Sfogliamo le pagine di cronache del Salernitano. Si parla delle primarie nel Partito Democratico. vediamo il titolo. Le primarie di Landolfi c'è l'accordo con il nuovo centrodestra. Non si faranno, ma il segretario provinciale non lo sa e convoca la direzione. Andiamo avanti. Ieri a Roma è big del Partito Democratico Campano. Assenti De Lucchiani per scegliere il candidato. Ma a Via Amanzo si raccolgono le firme. Cambiamo l'argomento. Lasciamo la politica. La cronaca. Salerno, tre anni per Marco Ferraiolo. Condannati anche i fratelli Isola. L'accusa estorsione. E ancora i funerali di Peppino Soglia. Lodde a te, Peppino Soglia. I funerali dell'ex patron tra ricordi e applausi. Stasera Granata in campo. Andiamo a centro pagina. Incendiata l'auto dell'assessore a Bracigliano. Attentato a Cardarapoli. In fiamme anche mezzo del comune. E a Scafati a Liberti ammette. Ho fatto un abuso. Mentre a Battipaglia disinnesco ordigno. 3.000 persone via da casa. Quindi dalle 1.500 siamo arrivati alle 2.000. Ora 3.000 persone. Andiamo ad Angri. Caso Sogget assolti il sindaco Mauri e la Mura. Sempre per la cronaca. Ad Angri è stradato dalla Spagna. Peppe o Squalo. Questa è la prima pagina di cronaca del Salernitano. Andiamo avanti. Caso Iannì. Per le notizie provenienti dalla parte sud della provincia di Salerno. Caso Iannì a Castellabate. Caos in Forza Italia. La nomina fatta da Mara Carfagna. Capo del gruppo giovanile. Fa ancora discutere. A Capaccio Pestum. Capaccio Pestum e Vallo di Diano. Via Libera in consiglio regionale. Federico Conte. Complimenti al lavoro del PD. La prima commissione consigliare della regione Campania. Ha dato il Via Libera alla discussione in consiglio regionale del progetto di legge. Modificazione della denominazione del comune di Capaccio in nome di Capaccio Pestum. Insieme a questo ricordiamo anche quello per l'istituzione del comune unico Vallo di Diano. Mediante la fusione dei comuni di Atena Lucana. Buonabitacolo, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Padula, Pertosa, Polla, Salacosina, Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro, San Rufo, Sanza, Sassano e Teggiano. Eletto relatore di maggioranza in aula. Il consigliere regionale Alberico Gambino. Che dichiara. Ringrazio i colleghi che mi hanno scelto quale relatore di una maggioranza in aula. Di una proposta di legge di cui sono convinto sostenitore. Nei prossimi giorni consulterò tutti i comuni che fanno parte del progetto al fine di recepire tutte le ulteriori ed eventuali indicazioni utili a permettermi di aderire al meglio al delicato ruolo che mi è stato assegnato. Mi auguro pertanto che anche questo, in questo caso, il gruppo consigliare PD ed in particolare i colleghi salernitani possano sostenere il progetto. Andiamo avanti. Laureana Cilento. Una frode ai consumatori scoperta dal NAS di Salerno. Un olio comune diventava l'extravergine cilentano. Di taglio alto, i carabinieri recuperano una bici d'epoca che era stata rubata a Modena. Infine, Capaccio si pensa all'esercito contro i furti. Tra le vittime, un assessore. Restiamo sulle pagine di cronaca del Salernitano. Andiamo ora sulla pagina dedicata alle notizie provenienti proprio dal Vallo di Diano. Si apre con la cronaca il furto della scorsa notte ad Atena Lucana. Vediamo Vallo di Diano. Furti a raffica nel Vallo di Diano. Tra scuole ed aziende, ladri in azione a Polla, Montesano sulla Marcellana, San Rufo e Atena Lucana. Vittima anche il bar Alfano. Un vero e proprio allarme per il ripetersi di episodi nel comprensorio. L'appuntamento con la musica a Padula, concerto d'autunno con Di Miele e Tramontano. Nuovo appuntamento con la musica per un concerto autunnale nella Little Town Famous Out di La Certosa di San Lorenzo. Il circolo sociale Carlo Alberto 1886 insieme all'associazione musicale Clementi presentano il concerto d'autunno con Luigi Di Miele e Bernardo Tramontano che seguiranno le musiche del disco Sacro e Profano. Andiamo avanti. Di spalla San Pietro, il comune leader nella lotta all'evasione nel piccolo centro del Vallo di Diano. Ormai non si parla d'altro e sono tutti orgogliosi dell'importante riconoscimento conquistato. Il gruppo consigliare Noi San Pietro, a proposito dell'inserimento del comune di San Pietro Altanagro nell'elenco dei comuni virtuosi per la lotta all'evasione, ha diffuso un comunicato. Il Ministero dell'Interno ha riconosciuto al comune di San Pietro un contributo per aver partecipato al contrasto all'evasione fiscale. E andiamo a centropagina, Sala Consina, provoca un incidente si dalla fuga, arrestato un 26enne rumeno, rintracciato dai carabinieri, aveva tasso alcolemico alto, era senza assicurazione e senza patente. Infine di taglio basso lo scoop di striscia, non ci sarebbe se Abete fosse andato a Polla. Lasciamo le pagine di cronache del Salernitano. Andiamo sulla Nuova del Sud, vediamo il titolo di apertura, Baci e Avanz, poi lo derubano. Si avvicinano ad un giovane di Melfi per offrirgli prestazioni sessuali, tre giovani rumene in manette. Prima lo palpeggiano, poi gli rubano la collana d'oro, arrestate dai carabinieri mentre stavano salendo sull'autobus. Andiamo avanti, Spiraglio per i 2.700 lavoratori in mobilità, cauto ottimismo al presidio permanente sotto la regione, l'Agenzia Agroforestale può ricollocarli. A Senise morirono in uno scontro sulla sindica, ma la famiglia non si rassegna, manca l'esame alcolemico. E a Baraggiano ha la leucemia, ma non l'indennità, gara di solidarietà per aiutare la famiglia. A centro pagina ancora il decreto sblocca Italia, Petrolio tocca al Consiglio regionale, il 4 dicembre il dibattito su sblocca Italia e possibile impugnazione, ma Rosa e Napoli lasciano la riunione dei capogruppo, è troppo tardi. Andiamo avanti, le parole del costituzionalista sono state travisate. E ancora nel Tg regionale il caso Grenci finisce in vigilanza Rai. Sempre a centro pagina, a Maratea, al Via la due giorni merito di più, il Forum dei giovani sfida a Pittella, la riforma del titolo quinto è un attacco cruento alla Basilicata, mentre a Matera il prefetto a striscia denigrazione becera. Per lo sport di taglio basso, Lega Pro Matera con l'abito da sera col Savoia, ma Iannini è out. Lasciamo le notizie della Basilicata che abbiamo visto dalla prima pagina di La Nuova del Sud, torniamo nel Salernitano con il quotidiano Metropolis, vediamo il titolo di apertura, cimitero in venti, nei guai, smaltimento dei rifiuti dal 2011 al 2014, ci sono 5 le indagini confluite in un unico procedimento, indagati funzionali di Noceale Inferiore, San Marzano, Pagani, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. Continuiamo su questa prima pagina, Salerno, molestia una 26enne, giovane finisce ai domiciliari, è sempre Salerno, clan Villacaro, processo per l'ex fidanzata del killer. A centro pagina, l'ultimo saluto nel segno di Soglia, tifosi Granata Uniti, anche qui l'immagine, l'ode a te Peppino Soglia. E ancora Salerno, piazza Libertà in 19 dal giudice e per luce d'artista, città blindata nel fine settimana, lo abbiamo visto. Andiamo di spalla, angri, assunzione del figlio, Mauri è stato assolto, ha scafato i droga da Spagna Olanda, estradato, Giuseppe Alfano, mentre a San Valentino Torio, neonato deceduto, medico condannato, morì durante il parto all'ospedale di Sarno, non fu attuato il protocollo di emergenza. Per le notizie riportate di taglio basso, Scafati, Puc, Frana l'intesa, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Liberti, solite critiche. A Nocera, delitto di Santinarizzo, nuovo processo in appello, mentre per lo sport, notizie sulla Salernitana che oggi è in campo a Reggio, Menichini ritrova Nalini. Questa è la prima pagina, andiamo ora sulla pagina dedicata alle notizie della provincia di Salerno. In apertura andiamo a Eboli, Cariello tenta l'OPA su Forza Italia, il 9 contro Cardiello, elezioni comunali a Eboli, il centrodestra diviso sul candidato a sindaco, parte del direttivo di Forza Italia in un documento, sostiene l'ex assessore. Continuiamo inutili tentativi alla ricerca dell'unità, ma il figlio del senatore non si arrende, restano in attesa, nuovo Psi e Fratelli d'Italia, oltre che il nuovo centrodestra. A centropagina Laureana Cilento, vendeva olio taroccato, denunciato a Battipaglia il 23 fuori casa in 2000, c'è l'ok della prefettura per far brillare l'ordigno, gli sfollati saranno ospitati nella scuola Ferrari. Di taglio basso, Sala Consigna guidava ubriaco, preso, causa un tamponamento e non soccorre 5 feriti, il 26enne evaso dai domiciliari era senza patente. Vediamo le notizie di spalla, Capaccio, carabiniere dorme, derubato in casa, Casalvelino, bracconaggio, definiti in due, ad Agropoli, agenzie entrate, resterà aperta, e infine a Sapri, bici d'epoca rubata, nei guai un uomo. E sulle pagine di Metropolis termina la nostra segna stampa, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Uno News, alle 13.45. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata.